Ragazzi, buonasera a tutti, sono il vostro amico Vudi, vi parlo qua da casa del grande Augello, non l'ho capito, non l'ho ben chiaro, non l'ho ben chiaro una cosa, ma l'ho detto, forse l'ho sentito anche in televisione, non lo so, che praticamente da domani bisogna mettere la mascherina a calapè, lo so. Ok, però, porco dici, devo capire una cosa, la mascherina va solo qua, o per quel che riguarda il totoscritto Vudi dalla casa del grande Augello, la mascherina va qua a coprire il mio fascino, non l'ho so, è una cosa verata, c'ho questo dubbio, porco dici, C'è bisogno di un ruolo di dubbioso, aiutatemi, ragazzi, intanto vi auguro, vi auguro, la buona sua volta.